Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 24 settembre di Globus Television Martedì, pressione in aumento sulla regione, giornata con generali condizioni di bel tempo Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, temperature massime in aumento fino a 31 gradi, valori notturni stabili Venti di Libeccio Mari, Martirreno da poco mosso a mosso, Marionio da poco mosso a mosso, stretto di Sicilia da poco mosso a mosso Grazie